Ma cos'è uno scherzo? Si riferisce a una cosa di quasi 30 anni fa. Non ne sarebbe capace. Il punto è che tu non puoi più insegnare in questa università. Ormai il dubbio su di te è arrivato. Sei uno spaventato! Sui me c'è una macchina, che non può essere la per me.